Buonasera signori bentornati, tempo di Tots Premier, solita preview, parlerò anche un po' di Gomez Vi dico che invece le review di questi giocatori usciranno non come sempre la domenica Perché io domani appunto, per chi non lo so, sarò allo stadio che ci hanno invitato a vedere Torino-Napoli Abbiamo un po' di robe da fare allo stadio col Torino E di conseguenza non ci sarò domani per testarli, ma comunque poi quando torno domenica Pian pianino testiamo tutto Allora andiamo subito a vedere che abbiamo un po' di carte Parliamo anche di Gomez, raga, che l'ho testato, non è uscita una review, ma comunque l'ho provato Vi dico di lasciare perdere A me non è piaciuto tanto Ho notato un po' di problemi ad attaccarsi Non un automatismi alla Laporte E appunto ci sono tanti difensori top ormai tra Marchini e Sivaritotti, Laporte stesso Mi è piaciuto più addirittura Timber di sto Gomez, prendetemi per pazzo Però in chat anche molti non ne sono rimasti entusiasti così come anche Olli Quindi io eviterei, visto la sovrabbondanza di carte Poi vedete voi, però nel complesso non mi ha convinto del tutto Per le stats che ha e l'ho provato comunque una decina di partite Mi è sembrato appunto non troppo automatico, non sempre metteva il piede E la velocità, nonostante sia simile a quella di Laporte In verità a tutte le stats come praticamente quelle di Laporte Non mi ha convinto del tutto Nel caso ovviamente con Ombra, raga, però io onestamente lo skipperei Poi passiamo all'altro SBC, Alli che ovviamente non ho ancora invece provato Questo Alli, raga, è una vita che non lo uso Perché l'ultimo Alli che ho usato mi pare fosse FIFA 18 Appunto quando era ancora un bel giocatore È un 4-4, gli hanno alzato il piede Alto-medio, quindi non ha l'alto-alto che non è fondamentale Però peccato E come vedete non ha neanche stats difensivi incredibili Come neanche Bruno che vedremo dopo Però Bruno lo conosco bene e vi dico che ha tanta CPU In teoria dovrebbe essere un bel giocatore perché è bello imponente Un po' alla Bellingham però che magari non difende come Bellingham E non ha lo stesso dribbling perché è più pesante Le stats di dribbling sono molto buone La velocità è buona, il tiro è clamoroso Però non va bene ovviamente da C.O.C. per quanto mi riguarda Difesa così così, 90 di forza e 84 di aggressività Passaggi top Io aspetterei una review di Olli che lo proverà Io poi lo proverò Però ripeto, a meno che non siate fano in memoria dei vecchi tempi di FIFA 18 Aspetterei perché, non lo so C'è qualcosa che non mi convince, vi dico la verità di questa carta Non so bene cosa, sarà che è un po' che non la uso Quindi ci andrai coi piedi di piombo Nel caso Ombra, raga, assolutamente Da C.C. o C.D.C. può giocare a entrambi le parti Sia in un modulo a 3 che in un centrocampo a 2 Passiamo invece ai tozzi di Premier Non vi ho messo Forse proprio tutti dei ghia tipo obiettivo Che ho ovviamente consigliato sbloccare Su De Bruyne faremo poche parole, raga Perché li conosciamo Ma ne, raga, lo conosciamo anche lui Però gli hanno dato 5 skill Carta clamorosa, guardate che dribbling Finisce in 96, anche se i suoi gol se li cagherà Perché sappiamo com'è il gioco Stamina, ottimi passaggi, velocità folle Questo secondo me è un top player, raga Qualcuno mi diceva Pelemido Lui per me questo sarà meglio Sicuramente se la va a giocare con le top moments Ovviamente potrebbe avere qualche problema A finalizzare da punta, raga Ma da esterno questo spacca Poi nessuno va a metterlo esterno A meno il miliardario chi lo picca E magari ha già un top attacco Può andare benissimo anche da attaccanti Io addirittura lo volevo prendere per fare il ciocci Ma non ci arrivo come crediti Però veramente top, top, top Giocatore Poi dopo che l'avrò provato Vi saprò dire meglio Come sempre Nei commenti, raga Questo o quello preferisco Perché in live Lo sapete che poi viene un po' pesante Gestire tante ore Con le stesse domande E soprattutto Non sempre c'è una risposta Quindi chiedetemi qua, raga Io pian pianino come sempre vi rispondo Non vi saprei far tanti confronti Perché Sì lo userei punta Però è un po' atipico Non manè solitamente si usa esterno Però top Carta Stile intesa Vi dico la verità Bisognerebbe boostare la finalizzazione Ma io sarei tentato A dargli base Che boosta un po' tutto Come vedete Ball control Passaggi Forza E shot power Però Dovendogli boostare un attimo Raga La finalizzazione Anche se è strano Mettere motore Su Manè Vi dico che metterai motore Per non appesantirlo con Falco O Un finalizzatore Visto che comunque C'ha 84 di forza Scusate Sniper Non finalizzatore Finalizzatore Boosta tiro E dribbling Però andrei su motore Perché Boosta comunque Un po' tutto Si è buggato, raga Ah no Motore non boosta il tiro Ho detto una cazzata Perdonate l'absus Oggi sto a pecora No cazzata Bisogna metterli per forza O finalizzatore O un Falco Però la velocità Già al massimo Quindi andrei Finalizzatore Scusate Ho detto Trollato Finalizzatore Se vogliamo andare Al 99 di finalizzazione E boostare comunque Il dribbling Se no Motore ci può stare Da C o C Volendo Perché boosta un po' I passaggi Soprattutto quelli lunghi E allo stesso tempo Il dribbling Però lasciate la finalizzazione A 96 Quindi rimarrei Fra base Motore E finalizzatore Per questa carta Che ripeto Non ha bisogno Comunque di stile intesa Bernardo Raga Invece Questo Lo userei Da C-C solo Perché è un alto alto Ma C-D-C con questo Body type Per me non lo può fare Poi non ha Sta gran difesa Dribbling Pazzesco C o C volendo Potrebbe Ha anche il tiro a giro No gliel'hanno tolto Una volta ce l'aveva Mi pareva Il buon Bernardo Nei vecchi FIFA Però dovrebbe tirare Molto bene a giro Vi dico Perché col mancino Ma ha sempre tirato tanto Da fuori Anche nei passati FIFA Passaggi top In teoria dovrebbe essere Velocissimo Però vedete 70 di forza Insomma è un po' Un fredd Un po' più offensivo Raga Mettiamola così Da C-O-C però eviterei Per il 4-4 L'userei C-C in un centrocampo A 3 Non so se ha senso Mettere gli ombra Sì mettete gli ombra Dai visto che comunque Già il tiro ce l'abbiamo Non so quanto appunto Può tornare utile Però andrei di ombra Su questa carta O addirittura Visto che ha già Tanta velocità Ed è comunque Maglonino E piccolino Raga Bernardo Bruno Anche qua non mi lungo troppo Vi dico solo che questo Se vi ricordate bene Lo amavo Ha avuto un buon app Ma non incredibile Costa un prezzo irrisorio Purtroppo rimane un tre piede debole A me piace tanto Tira benissimo a giro da fuori Passaggi Vi assicuro che anche col piede debole Non sbaglia troppi Finalizza molto bene E ha un sacco di CPU Per me rimane meglio di Bernardo E senza averlo provato Vi dico anche meglio di Alli E' vero che questo Bruno Non era piaciuto a tanti Questo qua il candidato Totti Io ve l'ho detto Io l'avevo amato Per il prezzo che ha Se vi serve un cc Meglio anche di Fred Per me Gli darei un try Davanti alla difesa Eviterei un centrocampo a due Questo Bruno Come stile Anche qua la solita ombra Iota Purtroppo Raga Questo invece Differenze di Bruno A me non fa impazzire Chi si ricorderà Quel video Iota la lotta Perché ha un body type Un po' così così Raga Però inquadratelo Come un Eusebio Questo qua Ha anche qualche stats Difensiva Quindi magari nel 3-5-2 Anche da esterno Però da esterno Lo ribaltano un po' Secondo me Nonostante l'80 di forza Io userei al centro Da punta solo Non ci occiva Perché non ha grandi passaggi Punta se non schillate Il prezzo è buono Destra-sinistra L'Eusebio Ovviamente non è tanto L'anno di questi giocatori qua Però per il prezzo che ha Potrebbe essere molto molto buono Nonostante non ha una finalizzazione Magari a 97-98 Però col 5 di debole Secondo me finalizza bene Ovviamente un Suarez Anche se costa di più 4-5 rimane meglio Per questo raga Io andrei di cacciatore Così boostata al massimo La velocità E boostata al massimo Il tiro Ronaldo Vabbè poco da dire raga In confronto al Toti Chi lo sa Qua ogni anno c'è questa cosa Meglio il Toti o il Tots Sono più o meno sempre uguali Io onestamente Andrei sul Tots Uno perché è più bella L'immagine dinamica Almeno per quanto mi riguarda E due perché come vedete C'è un più uno di forza E un meno uno di velocità Nel Toti E che lo potrebbero rendere Un pochino più pesante Però ragazzi Stiamo parlando veramente Io sfido qualcuno A notare differenze Però se dovessi prendere Andrei sul Sium Tots Con Motoro Qualcuno di voi Ovviamente lo piccherà Ma non sarò io Rice Due parole Questo non era male Mi ricordo Buon mediano difensivo Però 3-3 Insomma Usatelo soltanto Se avete pochi crediti Volete risparmiare Una sorta di Sangare Della Premier Poi Sangare Secondo me rimarrà meglio Però questo dovrebbe essere Un bel toro A livello difensivo Poi guardate qua che passaggi Ha nonostante il 3-3 Quindi se avete pochi crediti O altro Ci può stare a usare Questo Rice Con ombra Come stile Ruben Dias Anche qua poche parole Perché è simile Il Toti Qua però abbiamo Dei più due di differenza Che mi fanno dire Raga Prendete il Toti Poi questo qua Secondo me Worka tranquillamente Se lo piccate Provatelo Se dovete comprare Cercate di prendere il Toti Che è veramente Il mostro finale Vedete che cambia Qualche più uno Qualche più due Anche qua raga Però un più due di velocità Sapete può far comodo Nel caso Ombra anche per lui Arnold l'ho trovato Così come Cansello Gli ho trovati Stasera entrambi Non scambiabili Che dire Purtroppo Arnold Su FIFA Anche quando c'era il Toti Chi si ricorda Non è mai stato Incredibile Perché ha un body type Un po' così così Però io l'ho trovato Lo proverò Come dico sempre a voi Comunque tanta qualità A livello difensivo Dovrebbe essere forte Potrebbe patire un po' Fisicamente Abituato io a Carlos Alberto Prime Che raga è un mostro Non qualitativamente parlando Ma a livello fisico Potrei patire un po' Sta roba Ma si prova tanto raga Ormai siamo Arrivati belle galafine Poi 4-4 Guardate che passaggi Stile intesa raga Gli ho messo ancora Come ho messo ancora Cansello Che qua a differenza Degli altri Toti Ragazzi Non avevo notato Ma guardate che roba Cioè io non avevo capito Di aver sculato così Cioè già il Toti è mostruoso Ma questo ha Più 1 di velocità Più 2 Sotto molte stats Della difesa Praticamente tutte E un più 1 Vabbè di lettura difensiva Più o meno siamo lì Ha il dribbling Più 1 E poi ha un più 6 Raga Di No più 6 no Più 8 Di aggressività Raga Da 89 del Toti A 97 Più 3 di forza E più ancora di jumping Più 9 Che vabbè Il jumping che Torna utile A quello che torna utile Però cazzo Più 8 aggressività E più 3 di forza Oltre ad aver avuto un altro boost al tiro Eccetera Eccetera Quindi Sogansero Boh Non lo so Penso sia completamente totale Stile intesa ancora Ovviamente se non lo trovate Raga Un milione per un terzino sinistro Non mi pare il caso A meno che non avete squadre Sbloccate Son Penso che lo proverò CoC Stavwell Quando la farò domenica Che voglio prendere anche Marsello Ma Marsello lo userò CC Alla fine Son CoC Come dicevo di Iota Purtroppo non è tanto il gioco dei 4-5 Però non ho mai usato Son Quest'anno Perché con tutte le carte che sono uscite Queste qua Sono passate in sordina Mai trovate contro Praticamente Tra l'altro Tolto il base inizio gioco Questo secondo me è bello anche da CC Ottimo passaggio lungo Tiro a giro clamoroso 99 longshot E questo qua invece il finesse Ce l'ha Dribbling L'agilità non è magari pazzesca Però gli hanno bussato tanto il balance Velocità accettabile Ottima stamina Insomma Gran bella carta Ovviamente non bisogna skillarci Perché non fa le skill Però secondo me potrebbe essere interessante E poi è Sonaldo Raga Quindi Gazzes A priori Come stile Io ho sempre usato motore Su di lui nei vecchi FIFA E credo che andrò di motore Anche quest'anno Soprattutto usando lo CoC Se no anche qua raga Il solito Cacciatore Poi Salah Passiamo a un altro pezzo grosso Che raga Costa però Un'eternità Di crediti Però 4-4 Finalmente a sto giro Gliel'hanno messo Che dire raga E' un Toti Praticamente 99 finish In dribbling Quasi tutto 99 Velocità 99 Forza 86 O 97 di stamina Passaggi pazzeschi 4-4 Per me Medio di messi Toti Questo qua Anche lui tiro a giro E fa dei tiri a giro Molto molto interessanti Non da usare punta Anche se volendo si può Però lo sapete Salah è comunque 4-4 Non da usare magari CoC Anche se può farlo Questo è un esterno Clamoroso Secondo me Che potremmo vedere Anche nei futuri E ultimi tornei Che ci saranno Di quest'anno Come stile anche qua Un po' come permane Raga Direi sul serio Usare base Non stavolta sul serio Il dribbling va tutto 99 praticamente Boost al jumping Boost al un po' I passaggi Come vedete Boost al shot power Di 4 Nel caso Non volate usare questo Anche qua Mi ritrovo in difficoltà Raga Vedete voi Cosa volete boostare Magari un finalizzatore Ma il basico È il più completo Su questo qua Poco da fare Quindi usate base Come stile intesa Carta clamorosa Virgil Costa tanto Perché Virgil Guardate questo Costa ancora 400k Non lo so Io ai vecchi FIFA Ve lo dico sempre in live Virgil è uno dei difensori Più incredibili Che io abbia mai provato In 6 anni Sul 19 usavo questo Agli eventi Ho vinto con questo Ad Atlanta Avevo bei ricordi di lui Però 78% di accelerazione Quest'anno Con gli sprint boost A sto punto del gioco Potrebbe essere un problema Nonostante abbia Comunque poi Tutte le altre stats Ovviamente a posto Perché Virgil Stile intesa Qua ci vale cacciatore Raga Non mi sembra il caso di Ombra Poi se volete Proprio la difesa Stecca Ombra Però per me va bene cacciatore Bisogna vedere Questa accelerazione Quanto influisce Cercherò ovviamente Di provarvelo E ci toglieremo il dubbio Se l'accelerazione Non è un problema Raga Vi dico già che questo 1,93 per 92 kg Un bufalo Full Full Automatico De Bruyne Anche qua Qualche cambiamento Dal Toti Come potete vedere Qua vi dico la verità Se lo usate in un centrocampo a 2 Andrei sul Toti Perché avete un più 5 Di intercettazione Guardate avete un più 4 Di difesa Perdete qualcosa in dribbling Qualcosa in velocità Ma andrei sul Toti Se lo usate cc Ragazzi I cazzi di queste stats Tanto De Bruyne La CPU ce l'ha Quest'anno c'è un botto Di CPU nel gioco Andate a guadagnare 2 di dribbling Come vedete 91 agilità E tanto per De Bruyne E 2 di velocità Perdete un po' di difesa Quindi dipende dal ruolo Che lo dovete andare a usare De Bruyne top Anche qua Fare i confronti difficili Perché ormai ci sono Mille carte ragazzi Stile intesa Ombra Per il cappone O cacciatore Se volete andare a bustare Il tiro da cc Rodri Qua due parole Anche un po' come per Rice Secondo me Rice Ma anche dalla carta Si vede molto molto meglio Non mi convince Però low budget Per chi magari ha pochi crediti Può tornare utile Ma Questo Rodri Secondo me Worka ben poco Ombra come stile intesa Bene ragazzi La preview è finita Ci vediamo Come sempre Poi nelle varie review Che arriveranno più a voce Anche adesso andando avanti E poi Raga Arriverà il momento Che ci saluteremo Ma non per sempre Perché poi Il prossimo anno Torneremo carichi Come sempre Io vi auguro Un buon weekend Una buona serata E ci vediamo Raga Come sempre Al prossimo video Ciao a tutti